Monsignor Marcianò, vescovo di Rossano dal 2006, è stato designato dal Papa per l'incarico di ordinario militare. Lascerà quindi la diocesi di Cosenza per ricoprire un importante e prestigioso ruolo che fu anche di Angelo Bagnasco, attuale presidente della CEI. Come i suoi predecessori, Marcianò sarà elevato al grado di generale di corpo d'armate e sul colletto della tonaca sarà chiamato a indossare le stellette. Anche per questo sulla sua nomina ci deve essere una firma del presidente della Repubblica. Sotto la responsabilità del presule calabrese ci saranno tutti i capellani militari che assistono spiritualmente alle truppe italiane dislocate nel mondo. In totale si tratta di circa 300 tra sacerdoti, religiosi e suore. Per la diocesi di Rossano invece si apre una fase di sede vacante, identica a quella che sta vivendo l'Ocri dopo il trasferimento di Morosini a Reggio. Entrambe dovranno attendere che il Papa nomini un nuovo pastore. Marcianò, quando fu inviato da Benedetto XVI al posto di Andrea Cassone, alla guida della Chiesa rossanese, era il più giovane arcivescovo d'Italia. Proveniva da Reggio Calabria, dove aveva ricoperto diversi incarichi, tra i quali quelli direttore del seminario diocesano intitolato a Pio XI e direttore del centro vocazionale.